Il Vangelo di questa domenica diventa un po' la conseguenza di una serie, oserei dire, di accuse che Gesù fa ai capi spirituali del popolo. Addirittura sottolinea il fatto di poterli considerare ladri, assassini, assassini dei profeti, no? Ricordiamo i vignoioli omicidi, queste parabole che ci hanno un po' inserito in un contesto abbastanza particolare per questo atteggiamento di Gesù così duro contro quell'ipocrisia, ma soprattutto sottolineare il fatto di non essere compreso e di non aver assolutamente nessuna intenzione a comprendere questa rivelazione che lui stesso personalmente è venuta a donare all'umanità a partire proprio dai cosiddetti fedeli, i più fedeli. Ma Gesù, logicamente, è seguito da tanta folla, tanti sono affascinati dalla sua parola, dal suo stile di vita e poi prodigi, ecco, non è che possono essere sottovalutati, no? Ma per i capi del popolo, per i sacerdoti, i sommi sacerdoti, per il sinedrio, la classe un po' dirigenziale, c'è bisogno di screditarlo. C'è bisogno di screditarlo e quindi addirittura tenero un consiglio per vedere come coglierlo in fallo, come intrappolarlo con qualche parola, visto che lui con la sua parola affascinava tutti, avrebbero voluto con la sua stessa parola intrappolarlo. E quindi, ecco che, addirittura, vengono mandati dei discepoli di questi sommi sacerdoti, eccetera, insieme agli erodiani. Gesù aveva fatto capire chiaramente che loro erano gli invitati che avevano rinunciato di partecipare alle nozze, quindi loro avevano un risentimento terribile. Questo Gesù era un loro nemico, li stava screditando, li stava eliminando dall'idea di partecipare al Regno dei Cieli. Quindi bisognava in qualche modo metterlo a tacere, farlo cadere in contraddizione. E guardate che cosa strana, i discepoli dei farisei vengono inviati insieme agli erodiani, cioè due fazioni completamente opposte, gli uni contro i romani al 100% e gli altri a favore. Gli erodiani erano quelli che in qualche modo pensavano che l'invasione dei romani con quel re fantoccio che era erodico, e potesse essere una benedizione per loro. L'altro invece pensavano solo che fossero una punizione di Dio. Quindi queste due fazioni così avverse proprio, ecco come se volessimo dire proprio nemici per la pelle, ecco che si uniscono. Gesù è un nostro nemico, dicono gli uni, Gesù è un nostro nemico, dicono gli altri, allora contro il nemico diventiamo amici. Sembra quasi che Gesù sfrutti addirittura l'inimicizia verso di lui per far diventare amici i nemici. È bellissimo questo, no? Ecco, ma questi sono i prodigi di Dio. Si avvicinano, maestro, ecco maestro è già un titolo che spesso viene usato dai nemici di Gesù, ma sempre per coloro che gli sono ostili, quasi quasi per addolcire qualcosa di negativo che si vuole dire. E sentite che parole, che adulazione. Sappiamo che sei veritiero e insegni la via, e non hai soggezione di alcuno. Quindi tu dici la verità, non guardi in faccia a nessuno, non ti fai trarre in inganno, non ti fai condizionare, non ti fai corrompere, e allora dunque di un imperativo, una domanda che esige una risposta assolutamente, quasi non avesse possibilità di dire non voglio rispondere, non so rispondere, no, imperativo di, è lecito o no pagare il tributo a Cesare. Una pretesa di avere una risposta, di ottenere risposta. Logicamente sappiamo bene quale trappola voleva manifestare questa domanda. Se avesse detto è lecito, si sarebbe messo contro tutti i fedeli a Dio, è lecito la schiavitù, è lecito, no, oppure non è lecito, allora si mette contro i Romani, quindi sarebbe stato condannato. Ecco, il tributo a Cesare era una tassa che incondizionatamente tutti dovevano pagare, tutti, uomini e donne, dai 12 ai 65 anni. Una domanda tendenziosa, una trappola, o dice sì o dice no, lo abbiamo incastrato. Che cosa fa Gesù? Gesù con la sua intelligenza, con la sua sapienza, con la sua parola sapiente, è come se salisse di livello per dare una risposta. Sì, perché a volte ci sono delle risposte che sono delle vere e proprie trappole, come quella che lui stesso pose, no? E gli scrive i farisei quando gli dissero ma con quale autorità dici queste cose sul Tempio, eccetera? E lui, vi risponderò dopo che voi risponderete la mia domanda, Giovanni Battista veniva da Dio oppure no? Ecco, allora loro dicono non sappiamo rispondere, ricorderete l'episodio? E allora nemmeno io vi rispondo. Ma questa volta non è questa la posizione. La posizione è dare una risposta, una risposta che però da un livello esteriore passa da un livello interiore. Sì, la risposta di Gesù è salire di livello. Perché? Perché conosce la malizia, conosce l'ipocrisia, capisce che vogliono metterlo alla prova e allora deve rigirare questa domanda e deve come rigirare la trappola verso di loro. La trappola che avevano teso per lui adesso Gesù la tende a loro. Perché mi tentate? Perché siete Satana? Perché siete dei tentatori? Perché volete essere dei diavoli? Mamma mia! Vedete come Gesù fa una premessa e poi subito la risposta mostratemi la moneta del tributo. Essi gliela presentarono. Presentarono un denaro. E come mai avevano un denaro? Stavano nel tempio, non potevano nemmeno possederlo. Come mai il denaro lo possedevano? Come mai? Quando si accedeva al tempio il denaro bisognava cambiarlo. C'erano apposte cambiavalute per avere la valuta di Gerusalemme che poi sarebbe servita anche all'acquisto dei vittime per il sacrificio, eccetera. Perché non potevano avere e possedere queste monete? Perché vi era l'effigie dell'imperatore che per i pagani era una divinità. E quindi loro non dovevano nemmeno averli. E invece ne possedevano. E chissà quanti ne avrebbero voluto possedere dato il valore di queste monete. Cosa c'era nella moneta? Da un lato c'era la testa dell'imperatore, la divinità. Tiberio Cesare, figlio del divino Augusto, pontefice Massimo. Questa l'iscrizione. E nel retro era figurata la madre di Tiberio, Livia, come dea della pace. Ecco, questa moneta rappresentava il potere. Dove arrivavano le monete l'arrivava il dominio dell'imperatore. Quindi se la moneta era arrivata lì, il dominio dell'imperatore è arrivato lì. E se fosse andata oltre, sarebbe l'impero che arriva oltre. Quindi c'è questa idea proprio del possesso. Ma come mai? Per i vostri interessi tutto è possibile? Dite sempre che non bisogna adorare altri dei, eccetera, eccetera, eppure nelle tasche ce li avete questi soldi. E allora Gesù, queste monete. E allora Gesù, questa immagine, l'iscrizione di chi sono? Di Cesare. Ed ecco la famosa risposta. Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Cosa vuol dire questa frase? Non dovete usare i benefici dell'impero. I benefici dell'impero. Rendete a lui. Questa è roba loro, datela a loro, non godetene voi. E se no che coerenza avete? E lì capite come i farisei ancora più interiormente si ribellavano a questa verità che Gesù gli aveva sbattuto in faccia. E a Dio quel che è di Dio. Cosa bisognava rendere a Dio? Ah, bisognava rendere a Dio lode, fede e soprattutto bisognava rendere a Dio il popolo che loro avevano schiavizzato con questa idea di una legge che li dovesse far sentire perfetti. Ma quell'osservanza della legge era una malizia, era un'ipocrisia, era usata solo al loro favore per i loro interessi e per la loro soddisfazione di potere e di possedere. Ecco, rendete a Dio quel che è di Dio. Di questo ce ne dobbiamo sempre rendere conto. È importantissimo. È importantissimo. Bisogna rendere culto a Dio. Bisogna corrispondere al suo amore. Ecco, attenti a non ridurre Dio ai nostri schemi, al nostro modo di pensare. entriamo nel suo schema, nel suo modo di pensare. Le mie vie non sono le vostre vie, eccetera, eccetera. I miei pensieri non sono i vostri pensieri. Se ne andarono. È certo. Se ne andarono. Che volevano fare? Queste parole rimasero meravigliate, lo lasciarono e se ne andarono. La trappola che era stata attesa per Gesù si era inequivocabilmente riversata su di loro. Se ne andarono. Ecco, allora cerchiamo di comprendere bene questa realtà del possedere. Rendere a Dio quel che è di Dio. Io non mi appartengo, mi devo rendere a Dio e devo rendere grazie a Dio. Devo diventare un rendimento di grazie a Dio vivente. Mia moglie, mio marito, non sono un mio possesso. Sono un dono di Dio per la via vita, ma poi tutto torna a Dio. È così i miei amici, è così il mio lavoro, è così il mio servizio. Tutta la mia esistenza e tutto ciò che mi circonda, l'intero creato è di Dio. Vi ricordate il padrone che fa lavorare i vignaioli? A un certo punto vuole fare i conti, no? C'è qualcosa che aspetta a lui. No, è tutto mio. Ecco il peccato. Non è tutto tuo. Devi rendere conto a Dio. Devi rendere a Dio quel che è di Dio. Devi rendere a Dio quel che è di Dio. E allora il creato stesso, no? Tutto il discorso dell'ecologia e rendere a Dio quel che è di Dio non è un tuo possesso. Non puoi usare tutto a tuo uso e consumo. Soprattutto non puoi usare a tuo uso e consumo le persone, le situazioni. I tuoi stessi figli Dio te li ha affidati. Così come ogni altra situazione. La tua stessa fede è un dono di Dio che ti appartiene ma ne devi rendere conto a Lui. Ecco, allora chiediamo veramente al Signore di trascorrere un tempo di rendimento di grazie a Lui. Quasi come a comprendere che non c'è questa idea del possesso in noi ma l'idea del servizio. L'idea di un dono ricevuto che in qualche modo va reso. Come tutta la nostra vita. La totalità della nostra vita. se è un rendimento di grazie a Dio rendere grazie a Dio un rendere un ridare e quindi quotidianamente rendendo grazie a Dio stiamo dando a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare usufruiamo le cose di questo mondo ma nella misura giusta e relativamente perché l'assoluto è solo Dio e solo in Lui realizziamo in pienezza questa nostra esistenza umana in prospettiva di realizzazione divina e di partecipazione un giorno alla sua gloria per sempre.